Ciao, parteciparai al nostro track day l'undici in camere? Ecco cosa ti serve. Un giaino che si ha di 10 fino a 20 litri. Nel nostro negozio troverai una vasta gamma e potrai scegliere il tuo preferito. Una borraccia in pritan e infrangibile e non lascia retrogusto. Oppure una borraccia in impugno, solida ma non isotermica. Una giocca impermeabile. Potrai scegliere tra la zip lunga o la zip corta. Entrambi richiedibili e comodi per metterli nello zaino. Passo di cini trekking con impugnatura in scuma per darti sostegno durante la camminata. Ed infine, una cosa importante, una schermale escursionismo che abbia una suola in cross contact per una buona tenenza sul terreno bagnato e asciutto grazie alla presenza di un grip di 4 mm. Ora sei pronto per partecipare al nostro trek day. Ti aspettiamo!